Salve a tutti da System Roulette, volevo presentare questo programma creato e strutturato appositamente per smartphone dal ormai famosissimo e storico Casino SNAI. Non voglio assolutamente creare pubblicità gratuita anche perché non ha bisogno per la SNAI, ma volevo spezzare una lancia a favore di questo programma per un semplice motivo, uno in particolare, la puntata minima di un centesimo, cosa ormai introvabile nel mondo del web anche delle roulette, quindi una puntata minima da un centesimo massimale di 100 euro, utile per chi, utile un po' per tutti, soprattutto per chi ha le prime armi e magari è intrapreso da poco questo mondo, per chi vuole prendere un po' di dimestichezza con le roulette e anche per soprattutto per chi magari ha una cassa base iniziale bassa o per chi semplicemente vuole spendere, non vuole diciamo investire una grossa cifra. Audio e testi in italiano. Andiamo a controllare le opzioni, in questo caso se vogliamo lasciare oppure rimuovere le nostre puntate vincenti, qua entriamo nella modalità turbo quindi per quanto riguarda il giro veloce della nostra roulette e questa è un'esclusiva per quanto riguarda la roulette con lui smartphone per sfiorare la roulette per farla girare, cioè diamo la svirgolata col dito per creare diciamo una sorta di giro manuale tra virgolette grazie alla sensore del touchscreen, ovviamente poi le puntate, le giocate, le estrazioni saranno completamente a random, automatiche come tutto il resto dei dei sistemi di roulette. Che dire? Ah è una cosa molto importante ad esempio ripeto è la parte diciamo essendo la puntata diciamo minima, ti permette veramente di puntare il minimo, ovviamente io adesso non sto attuando nessun sistema, poi sto usando il saldo virtuale, era per fare una breve sezione di gioco. Eccolo qua. E niente ripeto, quindi per ottenere diciamo il programma non dobbiamo fare altro che entrare su Google, entriamo sul casino SNAI, quindi decidiamo SNAI su Google, entriamo all'interno del casino, se non ci siamo registrati, carichiamo, registriamo, carichiamo i documenti, ovviamente ci andremo a registrare sotto, solo, scusate, solo esclusivamente sotto il nostro nome, lasciando perdere quei video, qua mi soffermo un attimo, quei video dove il sistema funziona solamente se ti iscrivi sotto il mio link, il sistema ti crea una rendita di 200 euro, solamente se ti iscrivi solo su questo casino tramite questo link. Ragazzi quelli io, come li definisco io, sono tutte delle persone truffaldine, che comunque leggendo nei vari post, nei vari social, sono riuscito comunque a capire che la gente ormai, e sono veramente contento di questo, è riuscito a capire chi queste persone, perché alla fine cosa fanno? Ti costringono, comunque ti raggirano a iscriverti sotto di lui, a lui cosa fanno? Gli regaleranno un bonus, che poi andranno a farli fruttare in qualche maniera, in soldi reali, e tu ti trovi praticamente con un software, con un programma, sicuramente un sistema fa azullo, perché in genere usano il bianco e nero, il bianco e il rosso e nero, ormai diciamo che è stata superata fortunatamente anche questa fase, quindi ci registriamo, una volta registrati scendiamo col menu a tendina, andiamo a cliccare su snare roulette, ecco qua, non essendo diciamo un programma originale della Google, quindi non trovandolo sul Play Store, dobbiamo andare a rimuovere le sorgenti sconosciute, la spunta, per far sì che parta il download, altrimenti lo blocca, quindi una volta eliminato la sorgente sconosciuta, andiamo a scaricarle subito, quindi scarica subito, in modo da trovarcelo poi in tutti i nostri telefoni. È molto importante, e ripeto, fare sessioni brevi anche qua, come lo dico sempre in tutti i video, brevi sessioni, 30 minuti, 40 minuti massimo, altrimenti poi sia live che in roulette, diciamo, automatiche, il sistema poi capta la tua giocata, quindi ti fa andare subito in perdita, non esiste, ripeto, non esiste metodo, non esiste sistema, quando a meno che non entri in modalità ghost, ma questi sono altri discorsi che poi faremo poi, scusate, e soprattutto non sforare mai di una cassa iniziale un 30,35% di guadagno netto, diciamo, dalla cassa iniziale. Che ne so, per farvi un esempio, qua lo posso fare perché avendo una puntata davvero minima posso caricare il minimo, ad esempio, su SNAI di 15 ieri, 15 euro, carico 15 euro, ne vinco 30, ne vinco 35, stop, blocco qui la sessione e posso dire che la sessione è stata conclusa con successo. Ovviamente questo è, infatti, è per chi, ripeto, vuole iniziare magari con una somma moderata, chi non vuole investire una grossa quantità di denaro, con questo programma, avendo questa puntata minima, può farlo. Io vi ringrazio, grazie per la visualizzazione, un ciaone grandissimo da System Roulette. Ciao a tutti. Grazie a tutti.